Colpi d'arma da fuoco e tanto spavento nella notte tra lunedì e martedì a Biceglie dove un diciottenne è stato ferito al torace ed è adesso ricoverato in gravi condizioni presso il policlinico di Bari. Dinamica e movente ancora da chiarire, l'episodio è avvenuto intorno al 1.30 in piazza Umberto I mentre il giovane si trovava in sella al suo scooter. Il proiettile l'avrebbe colpito in prossimità di una spalla ma ancora non si conoscono le cause che hanno portato all'esplosione del colpo. Il diciottenne è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 ed è stato successivamente trasportato in codice rosso presso il reparto di rianimazione del policlinico di Bari. Il ragazzo è in prognosi riservata, le sue condizioni sarebbero apparse subito precarie. Sul posto i carabinieri del comando provinciale BAT che mantengono il più stretto riservo sugli sviluppi delle indagini. Al vaglio dei militari le immagini di videosorveglianza di piazza Umberto I per accertare sia la dinamica dell'accaduto sia l'eventuale presenza di altri individui insieme al diciottenne nei dintorni dell'area interessata. Il giovane originario proprio di Biceglie non ha precedenti penali. Gli inquirenti al momento non hanno escluso alcuna pista investigativa.